Ha fatto il Duca Bartolomeo II, si chiama Ilaria Petriella e l'altra è Maria Gaudino. Anche lei è una veterana del corteo storico. Anche lei è una veterana del corteo storico, praticamente c'è cresciuta, ha fatto carriera da Damina a Dama. Questa corte viene rappresentata anche qui sul Palazzo Ducale domenica, perché la novità di quest'anno è che ci sarà un po' di animazione qua al Palazzo Ducale con la presenza dei tre duchi che lo hanno abitato, e cioè il Duca Antonio Maria, il Duca Marcello e il Duca Filippo. Adesso vi presentiamo i protagonisti del corteo stabile.